Questo è un pallet con 27 scatoloni. Ascolta. Quando prepariamo un ordine, o prendiamo un intero scatolone, oppure prendiamo delle confezioni da quello in cima al pallet. Scannerizziamo lo scatolone, non il contenuto. Il sistema tollera un margine di errore perché non sa quante boccette ci sono dentro. E quel margine di errore rappresenta l'1,1%. Ecco, ora ascolta che è geniale. Quindi, se prendiamo meno dell'1,1% dall'intero stock, il sistema non registrerà errori e non si innescherà nessuna allerta. E l'1,1% equivale a milioni che aspettano solo noi. Due milioni e mezzo, per essere precisi. 50.000 flaconi. Sei fuori, non possiamo prendere 50.000 flaconi. Perché no? 50.000 flaconi. È un furto a tutti gli effetti. No, 50.000 boccette sono niente per Bray. No, non c'è modo che se ne accorgano. Ascolta, dammi il capo.